Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Biasin riesce a far arrabbiare anche i tifosi napoletani. Vabbè sappiamo, quelli della Juve li fa arrabbiare spesso, con quelli del Milan ci va un pochettino più tranquillo, a volte perché a volte ne butta di tutti i colori, ma questa volta anche i tifosi napoletani. Ci sono degli argomenti che vanno trattati e degli argomenti invece che dice lui non vanno toccati perché sono cose sensibili, cose che a noi comunque nel calcio non ci appartengono perché non sono successe negli stadi naturalmente. E su questo ha pienamente ragione. Come hanno ragione tutti gli interisti a lamentarsi e a dire il 99,99% dei 7600 componenti della curva a nord dell'Inter sono brave persone e hanno tutte le ragioni di questo mondo. Però di alcuni argomenti o se ne parla sempre o non se ne parla mai e innanzitutto bisognerebbe anche prendere le distanze da determinati accaduti sempre. Invece Biasin lo fa ad intermittenza. E questa volta i tifosi napoletani insieme a quelli juventini non ci stanno e gli vogliono far ricordare determinati episodi successi in passato con i commenti che lasciava lui. Come sempre, come vi ho detto tante volte, le cose se non ve le raccontano non sono mai accadute. E il buon Biasin da buon giornalista che frequenta pure i salotti televisivi quelli importanti e lo sa benissimo. E quindi sa quando deve divulgare la notizia e quando invece no. Per questo ci sono i social perché sui social c'è la libertà di parola. Minchiai. Avete visto ieri nel video che cosa succede appena scrivo determinate cose sul titolo, nel titolo del mio contenuto arriva la monetizzazione bloccata senza motivo. Quindi sappiamo che anche sui social non solo il così di ma tanti argomenti stanno diventando tabù. Non si capisce come mai perché normalmente l'articolo 21 se non sbaglio dice che tutti noi siamo liberi di esprimere il nostro pensiero a parola nello scritto e quindi siamo liberi sempre prendendoci le nostre responsabilità di parlare. Invece così ci mettono il bavaio, almeno ci provano. Poi dopo naturalmente sta a vedere se ci riescono. Detto questo, metti un bel like a questo contenuto per supportarlo. Condividi il video. Andiamo a sentire, anzi andiamo a vedere, andiamo a leggere che cosa diceva prima Biasin e come invece ora interpreta le cose che anche a Napoli ha dato fastidio. Aspetta la fine del contenuto ma non dimenticare di commentare con il tuo pensiero perché è molto importante, almeno per me, sentire anche la vostra di opinione. E ringrazio tutti coloro che stanno sostenendo il canale in privato. Detto questo andiamo a vedere che cosa succedeva prima perché sappiamo tutti cosa è successo adesso. Non ci interessa perché giustamente sono cose loro, sono anche cose gravi però c'è di mezzo una curva, una tifoseria che non c'entra niente con quello che è successo. E anche l'Inter non ha nessuna colpa con quello che è successo e non rischia niente. Io ho sentito dire che l'Inter rischia qualcosa. Secondo me non rischia assolutamente niente anche perché non vogliono indagare. Dovrebbero indagare più che altro sulle persone che entrano lì dentro che poi possono diventare pericolose anche per tutte le altre brave persone che ci sono dentro la curva che sono, come abbiamo detto prima, il 99,99%. Ed è per questo che si devono prendere le distanze ma a volte si sa quelle cattive persone sono amici tuoi forse e allora come diceva qualcuno è meglio stare zitti per non perderci i privilegi. Era una citazione di un film che conoscerete sicuramente non so se è il caso di Biasin non penso assolutamente io penso che nel suo caso sia l'amore per l'Inter che non lo porta a parlare di questo argomento dicendo a tutti che sono cose che non c'entrano niente col calcio ma noi ci ricordiamo qualche tempo fa tipo Notizia Ansa Fabrizio Biasin 6-12-2017 Cumulo penne per 13 anni e 11 mesi complessivi arrestato Loris Giuliano Grancini capo il trust dei Vikings Juve e poi metteva in vendita il suo biglietto della partita perché non se la sentiva era stato traumatizzato e colpito nel profondo per quello che era successo che non voleva neanche andare a vedere la partita e vendeva il biglietto allora su questo mi affianco a lui sul fatto che c'è da disgustarsi quando succedono queste cose quando succedono che vengono presi dei criminali no? perché non lo so così li hanno etichettati i giornali quelli della Juventus naturalmente sto parlando ed allontanati da un mondo pulito che dovrebbe essere lo stadio pulito dove le persone devono andare con la famiglia e non aver paura che uno con la maglia di un altro colore di città laggiù ti butti l'acido in faccia oppure ti gambizzi o queste cose qua che naturalmente lasciano il tempo che trovano però loro sono tutti bravi ma da queste cose non si dissociano anzi si devono tutelare dopo che ti hanno mandato il letame nel tuo canale dopo che ti hanno screditato denigrato insultato e aizzato persone contro e loro si devono tutelare io mi devo tutelare perché scherzi fino a prima che noi ti facevamo tutti questi dissing non c'era uno che veniva a minacciare e io il Napoli e adesso parleremo anche dei tifosi del Napoli io ho letto di tutti i colori una minaccia non mi è arrivata per quanto riguarda invece l'altra tifoseria dopo che questi signori si sono messi a fare propaganda diciamo a favore del mio canale sono arrivati un po' di criminali ma loro sono il 99 99% però c'è quello 0,1% che si moltiplica si moltiplica vi ricordate quel pupazzino che nel film si bagnava raddoppiava moltiplicava il pupazzino impazzito loro sono così strano però è vero detto questo che è una piccola puntualizzazione Biasin parlava per quel che riguarda le curve soprattutto quella della Juventus ed era un peccato non parlarne però ha parlato anche per quel che riguarda il Napoli e lì i napoletani che si hanno pure i loro difetti come noi Juventini abbiamo i nostri difetti però diciamo che all'Inter non l'hanno mai disturbata in questo caso invece Biasin che cosa fa pur di tirare l'acqua al proprio mulino Fabrizio Biasin era il 15 4 2023 De Laurentiis in posa con i capi ultras del Napoli opinioni dice lui non lo so vogliamo dire che lì c'era l'andrangheta perché si stava facendo la foto perché faceva la foto con i criminali oppure appartiene solo alle curve degli altri o ai tifosi degli altri delle altre società e delle altre squadre Biasin questo te lo chiedono praticamente tutti te lo chiediamo tutti perché anche questo Biasin aveva detto Fabrizio Biasin 9 gennaio 2023 bisogna dare 10 anni di DASPO agli ultras che hanno occupato l'autostrada il DASPO questi si sono presi ammazzate in autostrada altro che DASPO ecco un buon modo per provare a risolvere il problema e iniziare a capire che con il DASPO a questi gli fai il solletico quindi ne parlavi anche di cose successe fuori di ultras che si sono scontrati fuori dallo stadio nell'autostrada lontano dallo stadio ne hai parlato e allora fanno bene i napoletani che a me mi etichettavano la trinalota ma oltre non sono mai andati la monnezza che tra l'altro mi divertivano questi insulti non sono insulti chissà come fanno invece gli onestoni di città laggiù loro non aizzano la violenza no assolutamente no i video sono tutti registrati e sono già tutti da parte insieme alle minacce che sono arrivate avrete notizie sicuramente detto questo lui non ne parlava assolutamente non ne parlava dell'Inter però perché della Juventus si è preso la responsabilità di parlare della curva anche se sappiamo che la Juventus i tifosi sono tutti criminali avrebbero potuto fare non lo so una spedizione punitiva nei confronti di Biasin invece non se l'è mai cagato nessuno così come Ziliani Pistocchi Variale nessuno di questi è stato mai disturbato da un tifoso juventino e sono giornalisti o ex giornalisti che vanno in televisione che parlano in continuazione e che creano poi il volere popolare però giustamente quelli della Juventus sono criminali e Biasin ne deve parlare quelli delle altre società che picchiano i giornalisti vi ricordate il giornalista menato perché doveva farsi gli affari suoi per quel che riguarda il 31,05% di OCTRI e no e no e quello non dobbiamo dire l'aggressione al pullman della Juventus nella partita contro l'Inter dove poi si sono scontrati contro la polizia e lì non se ne deve parlare perché giustamente se io non te lo racconto questo non è mai successo però sarebbe bello una volta che prendeste le distanze voi tifosi dell'Inter a dire io non ci sto a questo a me non mi rappresenta questo Biasin non mi rappresenta perché quando dici le cose giuste dici cose giuste ma quando dici delle cose del genere io mi dissocio e invece no avete visto Biasin quello è un vero tifoso interista mentre noi schifiamo anche Momblano se ci dà una notizia di mercato sbagliata e lo critichiamo per dire Momblano perché mi sono ricordato adesso che era lui quello che qualche video fa dicevo qualcuno ha portato la notizia di Ronaldo alla Juve era Momblano non difendiamo a spada tratta qualsiasi cosa uno faccia o dica perché è tifoso della Juventus e non difendiamo la nostra curva perché è la nostra curva se dentro la nostra curva ai tempi di Don Beppino c'erano infiltrazioni e c'erano e magari ci saranno ancora ora di Andrangheta Juventus partelesa però il racconto naturalmente che è l'Andranghetentus è vero? questo è il racconto anche di Biasin quando il Pecoraro vi ricordate? no il Pecoraro quello che porta le pecore il Pecoraro il presidente cos'era? non mi ricordo più che cazzo era in quel momento Pecoraro comunque porta un'intercettazione di Agnelli con un capo oltre un capo dell'Andrangheta alla fine non era neanche lui però sui giornali e Biasin naturalmente lì la notizia si commentava perché la Juventus va commentata i tifosi napoletani cominciano a ragazzi non sono più molto amichevoli con voi perché se dovete attaccare la Juventus fatelo ma quella fotografia con De Laurentiis e gli ultras del Napoli per quale motivo? Biasin per quale motivo? parli di tutto dicono da Napoli e non parli invece di quello che interessa a casa tua perché ti occupi del pelucchio nell'occhio del tuo vicino e non guardi la trave che ti sta entrando nell'occhio naturalmente perché questa è la domanda che si fanno tutti detto questo il video finisce qua se siete arrivati fino a qua siete dei supereroi prima di chiudere consigli per gli acquisti perché ne vale davvero la pena ragazzi mi raccomando fateci un giro e andate a vedere se vi piace la maglia perché c'è un nuovo sito calcioking.com che in questo momento sta facendo delle belle offerte quindi vi faccio vedere la pubblicità e vi metto il link nel primo commento del del video è iniziata la stagione 2024 2025 per quel che riguarda il calcio italiano e tu ancora non hai acquistato la maglia della tua squadra preferita beh approfittane subito vai su calcioking.com dove potrai trovare non solo le maglie della tua squadra preferita ma anche le tute pantaloncini calzettoni e tutto quello che ti interessa per lo sport e per poterti fare al massimo la tua squadra e con il codice coupon Peter riceverai uno sconto del 10% su tutti gli acquisti che farete in descrizione trovate il link mi raccomando andate fate la vostra ricerca trovate la maglia che vi piace mettetela nel carrello con il codice Peter vi ricordo avrete il 10% di sconto questo ve lo offro io buon campionato a tutti sempre con calcioking.com vi ricordo che in descrizione trovate il link se volete sostenere il canale visto che comunque youtube sta cercando di metterci il bavaglio in qualche modo vi auguro un buon sabato e noi ci vediamo al prossimo e noi ci vediamo